ragazzi noi siamo la polizia e proteggiamo i nostri diamanti guardate oggi abbiamo un sistema di telecamere nessuno li potrà rubare perché abbiamo un sistema di telecamere va bene agente controlliamo i prigionieri andiamo ok fateci uscire abbiamo bisogno di un buon piano per uscire di qui e quale perché non usiamo una scala va bene andiamo allora muoviamoci mettiamola qui girala girala ok andiamo dai lasciami andare per primo no spostati lasciami andare no vado io devo andare io per primo no io ok andiamo insieme allora è davvero alto scendiamo sta arrivando la polizia ok agente andiamo dai prigionieri i prigionieri devono essere qui cosa che succede i prigionieri stanno scappando andiamo scendete da lì scendete dalla scala scendete da lì subito scendete scendete dalla scala forza scendete oh no dobbiamo scendere scendiamo scendiamo scendete scendete subito dalla scala non potete usare la scala avete capito ok non provate più a fare queste cose resterete in prigione e ci resterete per sempre oh no fateci uscire no no non vi lasceremo mai uscire nemmeno per sogno già nemmeno per sogno mangiamo qualche ciambella pensiamo ad un nuovo piano ho un'idea vi tengo d'occhio ragazzi vogliamo fare una telefonata si vogliamo una telefonata una telefonata si beh suppongo che tu abbia diritto a una telefonata seguitemi ragazzi un solo minuto noi vorremmo ordinare due belle pizze e sai cosa voglio dire bene il tempo è scaduto andate dammi il telefono andate tornate in prigione tornate in prigione e niente più telefonate oggi consegna della pizza voglio controllare no non c'è bisogno di controllare diamogli le pizze è tutto a posto prendete le pizze ecco qui grazie bene godetevi le vostre pizze bene godetevi le vostre pizze ehi noi siamo della polizia che stiamo facendo in prigione poliziotti in prigione scusate molto per favore uscite a cosa stavo pensando ragazzi mi dispiace beh è stata una bella consegna oh aspetta un attimo quelli sono diamanti andiamo a prendere i diamanti sto andando controlliamo le telecamere di sicurezza controlliamo le telecamere di sicurezza ehi che succede una vecchia signora sta cercando di rubare i diamanti cosa forza andiamo si siamo usciti ora possiamo rubare i diamanti prendiamo quei diamanti forza prendiamo quella vecchia signora corriamo hai diamanti aspetta un attimo quella vecchia signora ha i diamanti che cosa prendiamola faccia il diamanti faccia il diamante faccia il diamante faccia il diamante restituisciceli subito no lascia il diamante andrà in prigione signora andrà in prigione signora andrà in prigione signora forza dobbiamo prenderli andiamo andiamo da questa parte forza e da questa parte aspetta siamo arrivati tardi forse sì avete già preso il ladro sì l'abbiamo già preso oh mio dio grazie mille siete arrivati troppo tardi siete dei noob ragazzi mi dispiace forse potreste unirvi alla polizia sembra proprio un ottimo piano sì perché no ok andiamo in prigione grazie ragazzi ottimo lavoro e adesso entrate lì dentro che succede che succede aprite aprite adesso ci hanno preso perdenti perdenti come hanno fatto no aprite e così ce l'abbiamo vincitati